Natura Clima è un territorio che si affaccia all'atletica, come sempre più forza e voglia di emergere. Sono solo alcune delle motivazioni che hanno portato a scegliere Agropoli e Capaccio Pestum come meta del consueto raduno tecnico del settore mezzofondo che dall'8 gennaio al 6 febbraio servirà a capire lo stato della condizione fisica in vista dei prossimi impegni agonistici. Siamo pronti a mettere a disposizione della nazionale italiana strutture ed ospitalità per questo importante raduno, esordisce Angelo Palmieri, presidente dell'Atletica Agropoli. Siamo certi che il fattore ambientale possa giovare agli atleti nella delicata fase della preparazione fisica. Arriveranno nel Cilento nomi importanti che stanno scrivendo pagine importanti dello sport nazionale. Jemane Beran Krippa, primatista italiano e finalista mondiale sui 10.000 metri e Jonas Chiappinelli, bronzo europeo, nei 3.000 siepi. Raduno impreziosito anche dalla presenza di Moad Abdikar Seikali, classe 93 Argento all'europeo under 23 del 2015. Sarà anche l'occasione per i nostri giovani di carpire qualche piccolo segreto e farne tesoro per il futuro. Voglio sottolineare, conclude Palmieri, la grande disponibilità dell'amministrazione comunale di Agropoli e Capaccio Pestum che hanno dimostrato una gran voglia di collaborare in questo progetto non solo sportivo ma di rilancio e promozione di tutto il nostro territorio. Quando si riesce a fare gioco di squadra, a vincere sono sempre tutti. Grande entusiasmo anche per Adamo Coppola, sindaco di Agropoli, che indica nel binomio Agropoli e Sport una scelta vincente per tutto il territorio. Abbiamo strutture sportive che fanno invidia a grandi città e fanno da richiamo per eventi di grande rilevanza. Non può che essere per me motivo di orgoglio ospitare il raduno dei migliori atleti della Nazionale di Mezzofondo. Avremo modo di farci conoscere ancora meglio per poterci rilanciare ancora di più in un prossimo futuro. Speriamo presto, libero dal Covid-19. Un ringraziamento va ad Angelo Palmieri, conclude Adamo Coppola, per la sua proficua attività. Raduno che viene accolto con grande entusiasmo anche da Franco Alfieri, primo cittadino di Capaccio Pestum. Accogliamo con favore questa iniziativa. Favorire lo sport e la presenza sul territorio di tali campioni non vuol dire solo dare ai nostri ragazzi esempi virtuosi, ma anche offrire al territorio altre diverse e importanti opportunità di sviluppo turistico.